Ciao! Ciao! Ciao gemello! No, non chiamarmi gemello, tu non sei mio gemello. Cazzo, ti assomigliamo come due cuorce d'acqua! No, io sono più evoluto. No! Tu sei più coglione! Ma lo sai che ogni giorno tu mangi un chilate di merda? Eh? Eh, lo sai che questa merda è buonissima? Che si è inventato l'hamburger e è un genio. Ne vuoi un po'? Dai! Lo sai cos'è un hamburger? È una cosa che costa poco. Se mangi in fretta è buonissima. No, l'hamburger è un processo di decostruzione della carne. Beh, ma che cazzo me ne frega? Il manzo viene smembrato, disarticolato, tritato e pressato. E diventa rotondo, ordinato e pulito. Me lo posso congelare, gridare e mangiare senza faticare. E se su quell'hamburger ci fosse scritto porzione di animale morto? No, fammi! È solo dieci minuti di pausa, lavoro! Non sai che la carne di quell'hamburger viene prodotta con animali che vivono in gabbie talmente piccole che non riescono neanche a girarsi? E lo sai che guadagno 700 euro al mese in un call center? E tu? Pure io 700 euro al mese. Animali che non sono mai a contatto con i loro simili. E divido un monologale a 30 anni con altri due. Pure io! Vengono nutriti con una sboba che non contiene ferro per mantenere la carne bianca. Ma questa carne rossa è in manzo! Che cazzo c'entra? Cogliono! In compenso ci ficano dentro ogni tipo di ormoni di antibiotico per farlo crescere in fretta ed evitare infezioni, capito? E quando arrivano le bollette ci prende la depressione. Animali che consumano i denti mordendo le grate. E non arrivo a fine mese, devo chiedere i soldi a casa. Animali che non sono mai a contatto con i loro simili, non vedranno mai un pezzo di cielo. Ma tu non vengono migliori da darmi! Il mercato della carne è gestito da multinazionali che decidono della tua salute. Non sento! Fottiti! Anche tu! Grazie!